Controllava il servizio di soccorso con ambulanze in una vasta area del Salernitano, praticamente in regime di monopolio, Roberto Squecco, imprenditore in odore di camorra, legato a pubblici amministratori, finito nei guai quando il servizio centrale anticrimine della Polizia di Stato diretto da Giuseppe Linares e la Questura di Salerno avevano cominciato a indagare a fondo su di lui, sequestrando beni per 16 milioni di euro. Un'intricata galassia di società, anche in Romania, e le associazioni che gestivano le ambulanze del 118, servizio in concessione per conto di alcune asle, dunque pagato con soldi pubblici. Ed è stato ancora il servizio centrale anticrimine con la Questura di Messina a scoprire gli investimenti fatti sfruttando i fondi pubblici dalla mafia De Mebrodi. Dalle casse dello Stato e dell'Unione Europea un fiume di danaro finiva dritto nelle tasche della mafia barcellonese, provincia di Messina. I clan nel giro di una decina di anni sono riusciti così ad arricchirsi, grazie a un collaudato sistema di travaso e reimpiego dei soldi pubblici, operazioni di riciclaggio, false fatturazioni che facevano perno su 16 società, soprattutto cooperative, cui finivano sistematicamente appalti per l'assistenza agli anziani, ai disabili, per la formazione, per il trasporto degli studenti come per i servizi delle as della zona. C'è una capacità di ottenere anche finanziamenti Covid in una situazione delicata per centinaia di migliaia di euro, c'è una capacità di infiltrare l'economia altissima. È un'indagine che costituisce anche elemento chiarificatore dell'attività di soggetti non facenti parte di queste organizzazioni ma molto vicini, di concorrenti, di complici, soggetti che mettono a disposizione la propria conoscenza, il proprio know-how, il proprio nome per favorire sostanzialmente il reimpiego della provvista in nero. Un flusso di denaro che ammonta a ben più di 100 milioni di euro e ha raccolto una gran quantità di elementi che hanno consentito al questore e al procuratore della Repubblica di Messina di proporre e ottenere il sequestro, oltre che delle società di ville di grande valore, anche di altri immobili, locali pubblici, aziende agricole. Tutte queste attività giravano intorno a una figura legata ai clan, Santo Napoli, un ex infermiere coinvolto in più indagini su rapporti tra mafia politica e amministrazioni locali, diventato consigliere comunale per anni figura influente del comune di Milazzo. Siamo riusciti a operare direttamente con l'autorità giudiziaria del paese, in questo caso si tratta della Romania, sequestrare la provvista che questa organizzazione aveva spostato all'estero. Investimenti all'estero e in alcune regioni d'Italia. E' proprio nei territori in cui minore appare il rischio di infiltrazione, è lì che si pongono come soggetto capace di acquistare e questo avviene soprattutto grazie a prestanomi, a consulenti. I clan hanno idee, specialisti, complici, strumenti per mettere le mani su qualsiasi genere di flusso finanziario pubblico. Lo hanno sempre fatto e si stanno dando da fare per mettere le mani anche sui soldi del piano nazionale di ripresa, il PNRR. Laddove c'è un investimento rilevante bisogna capire chi è il soggetto che ha investito, soltanto per comprendere se effettivamente quel soggetto ha una coerenza economico-finanziare che gli avrebbe consentito l'acquisto o invece è sorto dal nulla e quindi non ha una storia.